Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale, oggi siamo negli SG di Spin PvP Ragazzi, 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 prima di guardare il video vi invito a lasciare un bellissimo like e un commento Perché sarebbe molto molto apprezzato Perché raga, è da veramente tanto tempo che sto provando a registrare un cazzo di video su sto server Ma è veramente molto impossibile perché è critica la situazione tra lobby, tra team, tra hacker Non si capisce, è dura la situazione Anche se dici, madonna, suspea hacker, no? Che c'ho un anti-cheat, non dico uno dei migliori, però abbastanza decente No, ci sono anche gli hacker su sto server E tu cosa vuoi fare, tu da nudo? Cosa vuoi fare? Ok, è morto Però me lo sono voluto killare adesso perché avevo paura che mi killavano in qualche modo, non si sa mai Perché alla fine questa gente che viene così chiuso lo mi dà una leggera, una leggera, leggera Eh, questo qua, avete capito, insomma, una leggera paura Eh, ragazzi, devo dirvi un paio di news Allora, innanzitutto, che ho finalmente una copertina Eh, fino adesso, ragazzi, ho pubblicato copertine abbastanza schifose Veramente molto brutte, madonna Andateci a fare un salto Tutti gli altri video che ho fatto, che abbiamo fatto io e Zen Abbiamo messo sempre i copertini veramente molto brutte In poche parole, funzionava così la situazione Allora, tu devi morire Allora, in poche parole Noi registravamo uno Skywars Se tu romorivi, madonna Noi registravamo uno Skywars Ok, tutto quanto, beh, nel commento arriva bene Nel momento in cui noi dovevamo andare a caricarlo su YouTube YouTube ti richiede la copertina Appunto la copertina che volete mettere E noi non avevamo mai una copertina perché noi eravamo incapaci Eh, ancora adesso siamo incapaci di creatività E andavamo su Google Immagini e cercavamo una foto Appunto del... Per esempio noi vincevamo lo Skywars Lo caricavamo, scrivevo su Google Immagini Skywars E appunto me lo Google... Me lo scaricavo, mi scaricavo l'immagine e la mettevo Ed erano sempre, sempre, dico sempre, molto brutte le copertine Però finalmente è arrivato la mano del signore È arrivato Ratchet Ratchet, che poi l'abbiamo conosciuto Adesso faccio parte di un clan I Revive E mi sono fatto amicizia Mi sono fatto amicizia Ho fatto amicizia con appunto dei membri del clan Tra cui appunto Ratchet Che è un grafico E fa delle copertine molto belle Quindi vi lascerò il suo canale in descrizione Che nonostante... Beh, lui adesso ha un canale Purtroppo ha 3 strike Oddio, questo è un team da 2 mi sa Sì, è un team da 2 che facevano i lezzini Che volevano far finta che... Vaffanculo Vaffanculo Siete proprio un team di merda Guarda, non avete... Fate schifo, bastardi Ma va, sciottami, sciottami Bestia È una bestia Magari mi boost il tuo friend Ok Morto Prendi fuoco, bella Mori Vaffanculo Merda Ah Ce la siamo visti pure brutta Contro sto team da 2 Ok Buttiamo tutto Ok Facciamo così Ok Ok ragazzi Un'altra cosa che volevo dirvi È Che in questi giorni Io e Zen Siamo andati in live Su Su Youtube E ci Abbiamo fatto tipo Sui 10 spettatori C'erano 10 spettatori 10-15 Non mi ricordo Oddio Che è tutta sta gente qua Ah Cosa mi chiede team Perché appunto Questo qui è un team da 2 Quindi voleva fare team da con me Ok No Questi qua Mi sanno troppo di persone Che non sanno giocare Però Tipo Sono quelle là Tra i jardini Pazzerelle Aspetta No 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 Non vi voglio proprio affrontare a voi Perché non ho neanche Rigenerato tutta la vita Oh porco No 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 Plox 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 No 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 Sto perdendo troppa vita Troppa vita Sto perdendo troppa vita Sto perdendo troppa vita Non posso andare neanche al ciocche raga Perché Non avrei tempo Ok Lascia un altro tizio Magari se incontro Si li faccio incontrare Ho visto con la coda nell'occhio Quel tizio sull'agru Magari Aspetta Andiamoci Ok la spadina amante Ho visto che la spadina amante No 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 Poi va di nighgrond Qui cazzo mene Ok mi ha lasciato stare Me l'ho lasciato stare Ok 18 frecce Venite qua stronzi Ok Ti sto shottando Un paio di volte Sto facendo boost Un pagine di riviste Ok cosa Mi dare un fritt Perché è tipo vicino Ok scombato malissimo No 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 Non devi rompermi le palle Bella Abbiamo killato anche Questo team da due Finalmente No Ah Una sudata raga Una sudata pazzesca Ma l'importante È che le abbiamo killati Ehm Quindi stavo dicendo Siamo andati in live Ehm Abbiamo creato qualcosa Di molto divertente Siamo andati con Abbiamo fatto amicizia Anche con altra gente In live Vabbè ma Perché a me le live Raga piacciono tantissimo Cioè vedere in live Cioè le persone Che mi guardano in live Giochiamo insieme E a me veramente Mi piace tantissimo Quindi raga Vi invito Che venisse anche voi A vedere appunto Queste live Mi farebbe molto molto piacere La prossima live Sarà organizzata Appunto Penso di caricare un video Che dura intorno A un minuto Che appunto vi dico Che ragazzi In quel momento Io sto andando in live E devo affrettare le cose Perché Tipo la memoria di action piena Ehm Cioè in che stanza La memoria di action piena La galleria di action È piena E se non mi muovo A vincere l'SG La si diventa appunto piena E infatti guardate Sono iniziando a friendroppare E il video si chiude automaticamente Quindi affrettiamo le cose Il deathmatch è quasi partito Ragazzi Confido Ecco 3 giga Sono rimasti 3 giga Se arriva a 0 giga Si stoppa la registrazione Io piango Io piango Siamo arrivati a 3 giga Siamo a 6 minuti È qualcosa di registrazione Dobbiamo muoverci Dobbiamo affrettare le cose Qui ci sono 4 persone Colui che funge Rifi Che sono io appunto Yasin click Ok Le chest sono state rifillate Adesso mi Riprendo pure Un po' Le chest qui Ok Ok dai Resisti action Per favore Non farmi piangere Un altro Un altro Diamond Uh Una gapple Che mi serviva Ok A posto 25 secondi Deathmatch Allora vediamo come sta messo Action Ok È molto stabile La cosa ragazzi Faccio un piccolo taglietto E ci vediamo Direttamente Il deathmatch No ma che cazzo mene Sono 15 secondi Raga Ma che cazzo mene Sono 2 giga Raga Non muovermi Sono 2 fottutissimi giga Raga Se arriva a 0 giga Muoiere Muore la clip Muore Dai 3 2 1 Ok Come siete messi Ok siamo in 2 contro 1 Contro Mitch Sput Lo rush Raga Lo rush Tantissimo Sto tizio Devo caricarla Nonostante Io abbia Nonostante io perdo Perché Ci sta Ci sta Perché ho fatto Delle belle kill Mi sono killato Q2 team da 2 Quindi ci sta Questo mi ha messo Veramente molto bene Cioè Madonna quanto mi ha messo Bene Questo tizio Però lo boss Spamiamo un po' Ok Stiamo Stiamo andando molto bene Dai bro Morici Per favore Ti ho messo troppo bene Dovevo registrare What Perché non Ok Un altro hit Ok aspetta Ok mi sta Shotando anche lui Porco dio Vabbè raga Non fa niente GG raga Spero che il video Vi sia piaciuto Questa era messa Di addio L'ho lasciato Non me ne flicka Proprio un cazzo Ci sta Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Al commento Iscrivetevi Bella